Sogni dall'inizio della stagione, è un giorno che i tifosi non dimenticheranno mai. Questo è un giorno unico, non lo dimenticherete mai se siete tifosi di questa squadra, è un giorno nel quale arriva il coronamento di una stagione perfetta, i campioni sono loro. È stata una partita sensazionale, ancora una volta la battaglia è stata senza esclusione di colpi, così come in poche altre occasioni, con questo spirito hanno meritato la vittoria finale. Date uno sguardo a quello che succede in campo, che festa, intorno allo stadio è gioia pura, potete soltanto immaginare quanto questo possa contare per la squadra. Grazie a tutti! Grazie a tutti!